Ciao a tutti, sono Gianluca. In questa lezione parleremo della funzione date, che ritorna una data con una formattazione che riteniamo più opportuna. Prende come primo parametro obbligatorio una stringa che costituirà la formattazione della data e come secondo parametro opzionale un timestamp, quindi un numero che rappresenta i secondi trascorsi a partire dall'epoca Unix. Se non passiamo un timestamp, di default data gira sulla data attuale tramite la funzione time che già conosciamo. Bene, ma facciamo subito un esempio. Facciamo echo date e come primo parametro passiamo una stringa di slash m slash y in maiuscolo. Salviamo e andiamo ad aggiornare ed abbiamo 13.04.2018 che è la data in cui sto registrando la lezione. Ma queste lettere di m e y dove le prendo? Perché ho inserito queste lettere? Se andiamo nel manuale, nella funzione date, vediamo che per quanto riguarda il primo parametro abbiamo tutta una serie di caratteri di lettere che possiamo inserire. Se mettiamo ad esempio d, che cosa abbiamo? Abbiamo il numero del giorno all'interno del mese, due caratteri con 0 iniziale nel caso in cui il numero sia da 1 a 9. Quindi invece di avere 1, 2, 3 abbiamo 0, 1, 0, 2 fino a 0, 9. Se mettiamo j invece abbiamo il numero del giorno all'interno del mese senza lo 0 iniziale. Possiamo anche mettere w che rappresenta il numero del giorno all'interno della settimana, 0 per domenica e 6 per sabato. Possiamo mettere f per quanto riguarda una rappresentazione testuale del mese, quindi da gennaio a dicembre. Stessa cosa con m, abbiamo in questo caso la rappresentazione numerica del mese all'interno dell'anno con 0 iniziale. Andiamo giù ed abbiamo ad esempio le ore, quindi h da 0,1 a 12, quindi con 0 iniziale. Abbiamo con i i minuti da 0,0 a 59, abbiamo i secondi e così via. Quindi andiamo a modificare il parametro e mettiamo h che sta per ore, i che sta per minuti, s che sta per secondi. Ok, salvo e vado a aggiornare. Bene, vediamo che adesso abbiamo non solo il giorno, il mese e l'anno, ma anche l'ora, il minuto e il secondo. Se torniamo nel manuale, vediamo che dice che ci sono delle costanti predefinite che possono essere usate al posto di inserire manualmente le varie lettere. Ad esempio, come ci suggerisce il manuale, possiamo inserire date rss in questo modo. Quindi una costante, la prendiamo e invece di passare questo parametro, quindi una stringa, passiamo la costante date rss. Andiamo ad aggiornare e vediamo che abbiamo la data così formattata, ma in realtà possiamo inserire anche altre costanti, sempre che iniziano con date. Possiamo ad esempio selezionare date cookie. Andiamo ad aggiornare e vediamo che abbiamo una diversa formattazione. CEST sta per Central European Summer Time, che è il fuso orario per i paesi dell'Europa centrale nel periodo in cui vige l'ora legale estiva. Come fuso orario noi siamo nella fascia OTC più 1, quindi un'ora di differenza rispetto al Greenwich Mean Time, ma nell'ora legale siamo invece in OTC 2. Se infatti andiamo ad ispezionare, andiamo a vedere nelle informazioni in network. In questo momento sono le 10.38, però abbiamo l'indicazione in GMT che sono le 8.38.04 secondi. Siamo due ore avanti rispetto al GMT perché in questo momento, che siamo nel 13 aprile 2018, ci troviamo nell'ora legale estiva. Bene, come dicevo, torniamo alla situazione precedente. Come dicevo, possiamo passare anche a un secondo parametro opzionale, che è una timestamp, quindi un numero di secondi. Mettiamo ad esempio 1. Andiamo ad aggiornare. E che cosa abbiamo? Abbiamo la data del primo gennaio del 1970 all'una di notte e un secondo. Perché siamo all'una di notte e un secondo e non a mezzanotte e un secondo? Perché abbiamo passato soltanto 1. Proprio perché ci troviamo attualmente nell'ora legale estiva, quindi siamo un'ora in avanti. Possiamo ovviamente passare altri valori, come time più 3600. Ed abbiamo 13.04.2018, 11.40 e 51. Quindi ho aggiunto 3600 secondi all'ora attuale. Attualmente sono le 10.40. E impostando time più 3600 siamo andati in avanti di un'ora. Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo nella prossima lezione.